Alternativo è un po' difficile, che una divisa c'è sempre tra pari, per distinguersi dagli altri, per essere come gli altri, fricchettone tra i freak, colletto bianco nei piani alti. Con il suo nuovo singolo alternativo è un po' difficile, ci sarà anche lei, la retina Eleonora Betti, all'edizione 2022 del Malpighi Festival, organizzato ad Arezzo. Il suo sarà un concerto in acustico il 23 di luglio al festival estivo targato Arezzo che spacca. 22, 23 e 24 luglio, 22 e 23 sarà una situazione prettamente dedicata alla parte musicale, più faremo dei aperitalk prima di ogni serata live, quindi format nato durante la pandemia in collaborazione con il Mengo, portato dal vivo finalmente. All'interno della nostra sede si svolgeranno dei laboratori intensivi di comicità, fumetto e fotografia, questo perché? Perché l'ultima sera, il 24, faremo uno spettacolo di comicità con gli allievi del corso, esporremo i fumetti degli allievi del corso e quelli che hanno fatto il corso di fotografia saranno i fotografi ufficiali del festival, quindi ogni giorno la nostra pagina pubblicizzerà anche le fotografie degli utenti. Tutto questo, non facendoci mancare niente, verrà contornato dalla Fiera della Musica che si svolgerà nell'area verde davanti al palco, dove avremo tantissimi ospiti dell'ambito musicale retino a partire dai rivenditori di vinili, fino ad arrivare ai negozi più importanti della città, fino ad arrivare alle etichette Woodworm, Soffici Dischi e Radici Music Record che saranno a disposizione degli utenti proprio anche per farsi conoscere e per avere modo di confrontarsi. Per chiudere, all'interno sempre della Fiera della Musica faremo due live mattutini, giusto perché la temperatura ci vuole in qualche modo aiutare, e faremo suonare Eleonora Betti sabato mattina in acustico e domenica mattina il quartetto dell'orchestra instabile di Arezzo.